Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, siamo qui oggi con un altro giorno abbastanza storico per la community di zombie, abbiamo raggiunto un altro traguardo veramente incredibile, perché alcuni membri della community su Reddit sono riusciti a risolvere e tradurre completamente il linguaggio degli Apoticon. Per chi magari seguiva tantissimo la community e certe rivelazioni di Jason Blondel si ricorderà benissimo che comunque questo linguaggio è stato creato durante il periodo di Shadow of Evil e durante il ciclo vitale di Black Ops 3, dato che gli Apoticon, questi nuovi esseri che sono stati aggiunti alla storia veramente incredibile, che poi si è articolata tantissimo da Black Ops 3 in poi, sia gli Apoticon sia anche i Custodi, e questo teoricamente è il loro linguaggio, infatti anche la Wonder Weapon ha quattro nomi diversi, tutti con il linguaggio degli Apoticon, i simboli molto spesso sono Apoticon, e anche se li sentiamo parlare, teoricamente così sono i loro suoni che riescono ad emettere, e alcuni erano stati già in parte tradotti, comunque si sapeva il loro significato, anche perché molto spesso Blondel indossava, se non sbaglio era una maglietta, ma forse anche una felpa, con appunto tutti i simboli e la loro traduzione in inglese, poi anche durante certe streaming o video particolari, su alcuni schermi c'erano le spiegazioni di altri simboli ancora non visti o ancora non specificati, ma molto spesso erano davvero di sfuggita, non si leggeva molto bene la traduzione, era molto pixelata, e divenne appunto molto faticoso tradurre diversi simboli, mi ricordo che già ai tempi c'era qualche piccolo schema o qualche schermata per tradurre giusto 10-12 simboli, non di più, mentre di recente con tantissimo tempo, non si immaginare le ore di lavoro, sono riusciti a tradurre tutto quanto, la spiegazione ve la lascio ovviamente con il post in descrizione, è molto molto complessa, perché appunto non è qualcosa che si riesce a fare in 4348, però è molto molto interessante come alcuni membri della community abbiano queste idee comunque geniali, penso anche soltanto a chi risolve alcuni cipher molto complessi, alcuni easter egg che siano quelli principali o secondari, c'è sempre qualcuno che deve averci, secondo me, un tocco di genio. E la spiegazione in parole povere, diciamo, proprio riassumendo tantissimo, è che ci sono delle specie di radicals, radicali, comunque dei pezzi minuscoli, che sono quello che formano poi le parole più complesse e il linguaggio, perché ogni piccola parte ha un significato e un piccolo simbolo, e mettendone di più assieme possiamo avere parole più complesse o concetti un pochino più profondi del semplice parola o articolazione, per dire. E quindi piano piano sono riusciti a tradurre e a capire tutti quanti i simboli, e adesso c'è la schermata che traduce proprio tutto quanto, è quindi possibile addirittura dire certe parole o scrivere certe frasi con il linguaggio della Podicon, che secondo me è veramente spettacolare, quindi troveremo in giro dappertutto post tutti iscritti con questo linguaggio, ogni volta bisognerà andare sulla schermata tra una specie di dizionario virtuale e tradurre tutto quanto. È comunque molto molto interessante, e si vede la posizione della community che è durata per... a questo punto sono stati veramente diversi anni da cui è uscito Black Ops 3, e finalmente siamo riusciti a risolvere questo enigma gigantesco. Penso che la community di zombie sia una delle poche community, insieme magari a quella di Destiny mi viene in mente, perché io ci ho fatto parte anche lì per risolvere certi enigmi o cose particolari come anche i raid. Ci sono persone che ci stanno ore e ore intere, ma specialmente anche nella community di zombie, dato che si vuole proprio riuscire ad assaporare magari anche per primi il significato di qualcosa, o aver ottenuto finalmente qualcosa, scoperto qualcos'altro, è chiaro che ci sia molta passione, molta dedizione, e soprattutto a mio parere è una delle cose più belle poter ridare indietro alla community, perché loro ovviamente, quei da Trash come sviluppatori e creatori di tutto quanto, stanno lì ore e ore a creare qualcosa di veramente così complesso, e secondo me appunto non vedono l'ora che qualcuno riesca finalmente a scoprirlo. Ho visto anche che in questi giorni siamo riusciti a risolvere quei due easter egg di Nine dopo più di un anno, a contropare uno dei creatori di questi easter egg in specifico, e era da tanto tempo che pensava tra sé e sé, dai sono proprio lì davanti, dai che ce la fate, e quando ci siamo riusciti era molto molto contento. Quindi sicuramente quei pochi eletti diciamo che riescono ad avere la forza mentale, fisica, e comunque la dedizione per fare questo tipo di imprese, raggiungere questi traguardi, come finalmente tradurre un linguaggio come quello Apoticon, che richiede moltissime ore di lavoro e chissà quanti tentativi è andati male, è veramente fantastico rivedere comunque che riescono ad dare una spiegazione completa alla community, in modo che magari tutti quanti possano capire qual è stato il processo mentale, o comunque tutti i passi, le fasi, per riuscire ad arrivare a questo risultato finale, che comunque appunto unisce tutti quanti in quello che è sempre stato zombie. Quindi aggiungerci qualcosa come è stato il linguaggio Apoticon, che comunque è molto interessante, ci sta molto, anche per dare più profondità comunque a questi esseri che sono stati aggiunti alla storia etere, molto tempo dopo, perché alla fine noi sappiamo degli zombie, dell'elemento 115, degli esperimenti fatti durante il periodo nazista e poco dopo, e anche altri oggetti come la verga d'oro, la pietra focale, anche tutti gli oggetti che possiamo vedere su Moon, o anche su Black Ops 2, la distruzione della Terra con i razzi, ma alla Black Ops 3 poi abbiamo visto soprattutto l'introduzione di Monty, dello Shadow Man, dei custodi degli Apoticon, poi in seguito anche altre cose come i draghi, per dire, comunque esseri alternativi e non soltanto zombie, esseri umani, è qualcosa di leggermente variato, bensì qualcosa di completamente alieno, se possiamo dirla in questo modo. E a quanto visto, dato che ci sono comunque alcuni personaggi che proprio parlano in lingua Apoticon, come anche Brutus o il guardiano di Blood of the Dead, si può riuscire adesso a tradurre alcune parole, alcune piccole frasi, ovviamente non dicono nulla di così profondo o incredibile, però vagamente possiamo capire adesso il significato di alcune sezioni che prima erano completamente sconosciute, si poteva soltanto tirare e indovinare cosa volessero dire. Quindi concludendo ragazzi, in questo periodo continuano ad esserci veramente tantissime scoperte e rivoluzioni per quanto riguarda zombie, sicuramente so scoprire alcuni easter egg di Black Ops 4 così tanto tempo in avanti, riuscire a risolvere un enigma grossissimo come quello di Black Ops 3 del linguaggio Apoticon dopo così tanto tempo, però è sempre bello riuscire a vedere dei risultati, perché alla fine, per quanto siano pochissime persone che continuano a lavorare qualcosa del genere, mi viene anche in mente l'easter egg di bar e di intragiocatori, soltanto poche persone che pensano, ok, è possibile, vogliamo farlo, e ci stanno ore e ore, giorni, settimane, mesi, addirittura anni, però alla fine, quando arriviamo al risultato finale, è sicuramente la parte più bella in assoluto, proprio l'emozione, la soddisfazione sia personale sia come community di aver risolto qualcosa di così grande, forse anche più grande di noi, che alcuni sviluppatori probabilmente ci hanno messo mesi e mesi, anche loro, per riuscire a creare qualcosa del genere, e ogni giorno sperano che qualcuno possa finalmente craccare il codice, riuscire a risolvere tutto quanto, ed eccoci qua, finalmente che qualcuno ci è riuscito. Per cui ragazzi, fate sapere voi come al solito cosa ne pensate, se secondo voi sarebbe stato possibile appunto qualcosa del genere, e se magari darete un'occhiata un pochino a questa specie di dizionario virtuale, questo linguaggio degli Apoticon, e magari andare a tradurre qualcosa che possiamo trovare in giro o su Black Ops 3 o su Black Ops 4, dove appunto c'è qualcuno, non solitamente troppe battute, però alcune sono comunque in lingua Apoticon, ed è sicuramente molto interessante adesso poterle finalmente scoprire e tradurre e ottenere il loro vero significato. Spero come sempre ragazzi, che vi oggi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccio, ala. Un abbraccio, ala.